La verità sul delitto Claire forse è nel suo computer, ne sono convinti gli inquirenti che hanno conferito l'incarico ad un consulente informatico, lo stesso che ha operato per le indagini a carico dell'onorevole Alfonso Papa. Tutto il materiale in possesso della donna è stato sequestrato, si analizza anche la memoria del telefonino. Nuovi accertamenti in attesa dei risultati degli esami biologici effettuati sul coltello, l'unica arma del delitto. Dovrebbe essere quasi pronta anche la relazione medico-legale dopo l'autopsia effettuata da automacchione. Quel pesante cancello che a fatica aprivano e chiudevano i carabinieri il primo marzo scorso nasconde all'interno della villa la verità che purtroppo non vuole uscire fuori. Il movente resta ancora oscuro, le ipotesi più credibili restano quelle tracciate dal noto criminologo Carmelo Lavorino. Claire è stata uccisa, non vi è dubbio, si è trattato di un omicidio d'impeto del tipo espressivo e emotivo, estremamente motivato da una rabbia fortissima, da una persona che ha avuto rapporti amicali, di frequentazione o affettivi con la vittima. Lavorino, noto per le indagini dal caso Pacciani al delitto Cogne, il giallo di Garlasco ed altri gravi fatti di sangue, ha ribadito che occorre un'analisi di tutte le tracce ed attiloscopiche, orme dei passi tabulati telefonici della vittima per poter arrivare al vero assassino. Occorre verificare che tipo di tracce ci siano sulle mani della vittima, sul dorso, se sul coltello ci siano le impronte papillari digitali sporche di sangue. Un omicidio, ripete ancora Lavorino, intervistato da Canale 58 in esclusiva due giorni fa, dettato dalla rabbia e dalla perdita del controllo. Ma chi avrebbe dato fastidio a questa donna, definita da tutti tranquilla e senza grilli per la testa, da dove scaturisce questa forte rabbia che ha spinto il suo assassino ad ucciderla, chi ha sentito e visto qualcosa in quella villa. E' stata detta tutta la verità, gli inquirenti restano tutti in piedi, senza alcuna risposta purtroppo dal primo giorno, questi ed altri interrogativi intorno ad un giallo che non trova ancora una chiave di svolta. Una vicenda nera, come il volto della Vergine di Carpignano, che questa volta non è riuscita a proteggere quel luogo ancora frastornato da una morte atroce che chiede giustizia.